India, hotel 870, riceve? India, hotel 870, riceve? C'era la guerra quella notte del 27 giugno 1980. L'aereo risulta disperso. Su quell'aereo c'erano 69 adulti e 12 bambini che tornavano a casa. Che dici noi? Quello dell'Italia, l'hanno tirato giù con un missile. Il missile, ma andiamo. Quelli che sapevano hanno deciso che i cittadini, la gente, noi, non dovevamo sapere. Gli ha buttato giù il 19 e voleva colpire un altro aereo. Chi c'era su quell'aereo? C'era che d'arte? Quell'isile era per che d'arte? La notte dell'incidente nessun aereo o mezzo navale italiano si trovava nella zona. Hanno bruciato i documenti, hanno messo le registrazioni, cancellato i tracciati radar. Che cosa ha visto? Il 19 che cadeva. Nessun radar militare ha visto il 19 cadere. Perché? Chi sapeva è stato zitto. Perché chi poteva scoprire non si è mosso. Perché questa verità era così inconfessabile da richiedere il silenzio, l'omertà, l'occultamento delle prove. Perché? Niente coperture, niente deliberate menzogne, niente aerei killer, niente missili, niente. La verità, Milaglio, dica la verità! Sono dieci anni che aspettiamo! Dieci anni! La verità, Milaglio, dica la verità! La verità, Milaglio, dica la verità!